Salve a tutti amici, sabato 30 giugno è stata una giornata molto importante per il sovranismo italiano, in un certo senso è stata una giornata che ha segnato una vittoria che aspettavamo da parecchio, perché le manifestazioni, le varie manifestazioni che si sono svolte a Roma, a Milano e in altre città hanno portato in piazza un sacco di gente e hanno soprattutto, e questo è il punto e questo è l'elemento di successo indiscutibile, hanno obbligato i media mainstream a parlarne, ovviamente demonizzandole, ma non hanno potuto più ignorarle come hanno fatto costantemente per tutte le altre manifestazioni organizzate dalle forze sovraniste che non fossero partiti di governo o di opposizione. Iniziamo col dire che si tratta del primo evento pubblico, della prima azione pubblica di questi gruppi sovranisti post crisi del Covid, una crisi che è stata sicuramente di natura sanitaria, ma che è e sarà anche e soprattutto di natura economica e di natura democratica, cioè inerente alle nostre libertà fondamentali come la libertà di spostamento, la libertà di parola eccetera. In una situazione quindi di permanente limitazione delle nostre libertà di movimento, queste manifestazioni hanno visto la partecipazione di migliaia di persone e quindi hanno imposto ai giornali e alla televisione di parlarne. Naturalmente i media mainstream ne hanno parlato in termini estremamente negativi, hanno cercato di demonizzare la gente che è scesa in piazza. Se voi guardate le prime pagine dei vari giornali, come Repubblica, come la Fintom Post, come il Corriere, come il giornale, le parole che trovate ricorrenti sono assembramento, mancato rispetto delle norme anti-Covid, denuncia, identificazione eccetera. Non si fa riferimento né ai contenuti naturalmente né si fa riferimento alla presenza in una situazione così particolare di tante persone comuni. Ma il fatto che la stampa e le tv siano stati obbligati a parlare delle manifestazioni che i sovranisti hanno organizzato e anche quindi a riportare il fatto che c'è molta gente che non crede né alla spiegazione ufficiale né ai rimedi ufficiali rispetto al Covid è un elemento estremamente importante e forse non è un caso che in contemporanea proprio ieri sia stato resuscitato il ormai defunto movimento delle Sardine. Giusto pochissimi giorni prima Mattia Santori, il sedicente leader delle Sardine, aveva fatto un'intervista per dire che quell'esperienza era finita, per dire che c'erano troppe contrapposizioni, troppi liti, troppi personalismi, non si riusciva ad arrivare a nessuna elaborazione di una politica comune e che dunque il movimento delle Sardine era finito. E invece evidentemente era solo conservato sott'olio perché non appena il potere ha annusato aria di rivolta immediatamente sui giornali, sui giornaloni, insieme alle manifestazioni demonizzate dove la gente scendeva in piazza per chiedere la riappropriazione della propria sovranità democratica e l'applicazione della Costituzione esaltavano anche invece l'associazionismo, il movimentismo di Santori, il quale ha affermato che verranno presentati i punti politici delle Sardine ma che per adesso poteva comunicare il primo punto centrale, ossia l'associazionismo, la partecipazione civica che fondamentalmente non vuol dire niente e la lotta al sovranismo. Quindi l'obiettivo politico delle Sardine è lottare contro le forze sovraniste. Almeno una cosa ci arriva chiara, almeno un elemento di chiarezza c'è stato, le Sardine esistono per fermare la marea sovranista. Come è, se ci si pensa inevitabile, al finire della crisi del coronavirus stanno venendo al pettine tutta una serie di nodi politici che riguardano l'Italia, ma non solo, pensiamo a quello che sta succedendo a Trump negli Stati Uniti, che erano stati congelati dal lockdown. Evidentemente il potere che io ritengo abbia, grazie alla tecnologia, abbia il polso dell'opinione pubblica. Io penso che sia lo Stato che quello che si può definire il Deep Stato, attraverso il controllo degli strumenti della tecnologia, possa sapere in maniera piuttosto chiara quale sono le idee e i pensieri della maggior parte dei cittadini, molto di più di quanto non affermino i sondaggi, almeno quelli ufficiali. Sanno che c'è nell'area un forte malcontento e un senso di rivolta e quindi la questione di ciò che avviene in America, la questione di come vengono trattate le manifestazioni sovraniste o la questione delle sardine in Italia è un elemento che lascia pensare che il governo Conte sia sempre più debole e fragile, questo lo sappiamo, ma che contestualmente si stia già pensando a come allontanare le minacce per il sistema e creare, e nel caso che l'attuale governo cada, un nuovo equilibrio che tuteli gli stessi poteri economici e che tuteli le stesse oligarchie con un'altra forma. In questo senso vorrei anche rispondere a una domanda che mi è stata fatta alla manifestazione di Piazza del Popolo. Io sono andato a Piazza del Popolo, come avevo annunciato, e devo dire che ero rimasto molto deluso dal fatto che lì le persone erano poche. Non sapevo, perché non c'era stato consentito di arrivarci, c'erano le camionette della polizia che inibivano il passaggio, ma non sapevo, volevo andare a vedere quello che succedeva all'altra piazza, ma non sapevo che ci fosse una manifestazione così partecipata. Quindi devo dire che sono tornato a casa, molto deluso e molto pessimista. Poi invece, vedendo quello che era successo nelle altre piazze romane e nelle altre città, ho cambiato completamente idea. Ma devo dire che comunque la manifestazione della Piazza del Popolo, in cui c'era come minimo un altro centinaio di persone, 50-100 persone, mi ha fatto molto piacere avere l'occasione di parlare con molti di voi, e in particolare un ragazzo mi ha posto questa domanda, mi ha detto, ma come facciamo a sapere che queste organizzazioni e che questi gruppi, come quello di Pappalardo, come quello che ha organizzato la manifestazione qui, non siano come il Movimento 5 Stelle, cioè non siano altre operazioni per catturare e neutralizzare il dissenso. La risposta è nel motivo per cui io mi ritengo molto soddisfatto e sono molto ottimista rispetto alle manifestazioni di ieri, ossia quali sono i punti che portano avanti questi gruppi, che cos'è che li unisce e quali sono le rivendicazioni che unitariamente fanno al potere. La manifestazione di Pappalardo, la manifestazione a Piazza del Popolo, la manifestazione a Milano, la manifestazione a Piazza Santi Apostoli chiedono in primo luogo il ritorno alla sovranità monetaria e la creazione di una moneta nazionale che non sia emessa a debito, che sia sovrana e non emessa a debito. Questo elemento è l'elemento centrale che accomuna tutte le forze che sono scese in piazza, insieme ovviamente alla critica all'attuale governo e alla critica alla gestione e al racconto del coronavirus, ma la questione della sovranità monetaria è l'elemento centrale di tutte queste varie manifestazioni ed è l'elemento centrale del pensiero, almeno dal punto di vista politico e di politica economica, dei sovranisti ed è ciò su cui si distinguono, a mio avviso, le forze popolari dalle forze elitari e alle forze sovraniste dalle forze non sovraniste. Non basta accennare al fatto che l'euro non vada bene così com'è, che l'Unione Europea non sia una struttura che funziona e vada riformata se si vuole ridare il potere al popolo e se si vuole ricreare la struttura, il senso della democrazia che non sia più solo un guscio vuoto, la sovranità monetaria è assolutamente imprescindibile. Di conseguenza tutte quelle forze che chiedono il ritorno alla sovranità monetaria sono forze che noi possiamo considerare nostre alleate, a prescindere dalla sigla che assumono. Tutte quelle forze che invece non trattano questo punto o non lo trattano in maniera chiara o addirittura dicono come il Movimento 5 Stelle, come ha detto Di Maio, io mi tatuo in fronte e che non voglio uscire dall'euro, sono forze antisovraniste e di conseguenza anticostituzionali ed antipopolari. La politica non è fatta di sigle, non è fatta di maglie, è fatta di contenuti, è fatta di sostanza. Noi siamo abituati a essere divisi sulla base di aderenze che non sono sui contenuti ma sulle forme, un po' come dei tifosi di calcio, chi tifa la Roma o chi tifa la Lazio si distingue esclusivamente per la maglietta che porta, lui e per la maglietta che portano i calciatori che appunto tifa. Ma allo stesso modo tantissima gente, la maggioranza del corpo elettorale si dichiara di destra o di sinistra sulla base di un'idea pregressa e molto spesso anche totalmente priva di significato. Se però tu gli chiedi di definire in senso chiaro e positivo che cosa vuol dire essere di destra o di sinistra, che cosa vuol dire essere del 5 Stelle o della Lega, capisci che è più che altro una autodefinizione, è un modo che il potere acqua per dividerci, per metterci in lotta e per togliere da questa lotta gli elementi centrali. Quindi il punto, a mio avviso, non è tanto capire se Pappalardo, se ci si possa fidare di Pappalardo o se ci si possa fidare di quest'altra organizzazione, il punto è che i cittadini devono avere chiari quali sono i propri obiettivi politici, perché se il cittadino ha chiaro qual è l'obiettivo politico reale che si prefigge, allora è impossibile ingannarlo. Se gli elettori del Movimento 5 Stelle, anziché votare 5 Stelle con motivazioni come basta quelli sono tutti ladri, come se il 5 Stelle fosse composto da esseri venuti da un'altra galassia e non dagli stessi identici italiani di cui è composto il PD e di cui è composta Forza Italia, eccetera. Oppure se il dibattito politico viene portato su questioni marginali, la lotta agli sprechi, lo stipendio dei politici e cose del genere, si sta deviando l'attenzione dell'elettorato su questioni che non sono quelle che lo riguardano veramente. Ma se l'elettore ha ben chiaro quali sono i suoi obiettivi politici, non è possibile prenderlo in giro. Quindi è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi, è fondamentale innanzitutto che una quantità il più ampia possibile di cittadini sia perfettamente consapevole di come funziona il sistema monetario, di quanto sia indispensabile la sovranità monetaria, di quali siano i rapporti, gli interessi, gli strumenti di un potere che lo opprime e a questo punto anche il leader più infedele non ha la possibilità di prenderli per il naso perché non appena devia da quelli che i cittadini sanno essere gli obiettivi perde il suo potere, perde la sua presa sul popolo stesso. Quindi la questione della chiarezza ideologica è assolutamente centrale e indispensabile. Se sia quella non si può essere più preso in giro come è successo con il Movimento 5 Stelle e come potrebbe succedere con la Lega e con Fratelli d'Italia. Al tempo stesso io però ritengo che sia indispensabile perseguire l'unità delle forze sovraniste, cioè anziché dire io vado con Pappalardo perché sono un gilet arancione, io no, io vado con Fusaro perché lui è un gran figo, io invece sono con Paragone perché ero grillino, si deve a mio avviso, che è un'ulteriore forma di divisione e di indebolimento, ci si deve confrontare esclusivamente sugli obiettivi fondamentali. Quindi ancora una volta se si è per la sovranità monetaria e se lo si ritiene essere l'elemento centrale indispensabile della politica, a questo punto non ha senso dividersi in sigla, è indispensabile cercare unità ed è indispensabile che tutti coloro che sono i protagonisti a livello culturale del mondo sovranista spingano per questa unità e che al tempo stesso creino una piattaforma di elementi condivisi che possono essere fondamentalmente tutte le questioni costituzionali, a mio avviso c'è il movimento sovranista dovrebbe avere come obiettivo centrale il ripristino della costituzione che ha reso grande l'Italia, ma a quel punto non ha senso dividersi e a quel punto avendo molto chiari quali sono gli obiettivi e qual è il percorso è impossibile essere portati fuori strada esattamente come un tassista disonesto, ti può far fare il giro di Roma per andare dal punto A e il punto B anche se distano 500 km se tu non conosci la strada, ma se tu Roma la conosci palmo a palmo appena metti una freccia che va nella direzione sbagliata e gli dici guarda non devi girare, devi andare dritto. Quindi dopo questo successo che c'è stato il 30 la nostra lotta, il nostro obiettivo deve essere soprattutto di natura mediatica, diffusione il più ampia possibile degli elementi che mettano il popolo in grado di decidere e di distinguere e poi unità tra tutti quei soggetti, tra tutte quelle forze, tra tutti quei canali, tra tutti quegli intellettuali, tra tutti coloro che si rispecchiano in questi valori, che si rispecchiano in questi obiettivi, che vogliono ridare all'Italia una piena democrazia, una piena sovranità politica, monetaria ed elettorale e che di conseguenza vogliano sottrarre il paese a tutte quelle indebite forme di dominazione di organismi tecnocratici, di banche internazionali, di banche centrali private che stampano monete a debito o di varie istituzioni internazionali che dicono ai cittadini dovete fare questo o quell'altro, potete fare questo o quell'altro e ridare pienamente la sovranità al popolo italiano perché così facendo io ritengo che il popolo italiano che ha infinite potenzialità sarà perfettamente in grado di superare la crisi economica dovuta al coronavirus e diritto a riportare l'Italia in quel processo di progresso e di sviluppo economico, tecnologico, scientifico, culturale e sociale che l'ha contraddistinta nei decenni prima della nostra sciagurata scelta di entrare nell'Unione Europea. Se il video ti è piaciuto e pensi che l'informazione libera sia indispensabile sostienici e aiutaci a crescere. In descrizione troverai tutti i riferimenti per dare il tuo contributo.